Allora, nonnuzza, tutto bene? Guarda, ce l'ho macchiato tutti. Stanotte, dico. Vuoi sapere se ho visto a mamma? No, niente apparizione. Brava. Brava, nonnuzza, brava. Dimmi una cosa, Nino. Ti ricordi che quest'estate mi avevi chiesto quel ciclo motorino o qualcosa? Ah, il motorino. E tu mi dici sti di no? Ma beh, dici sti di no perché eri ragazzino, ora sei cresciuto, dai soddisfazione a papà e te lo voglio comprare. Sei contento? Sì, ma non mi interessa, non lo voglio più, papà. Ma non lo vuoi, attento. Ma hai fatto il diavolo a quattro. E' una spesa inutile, poi è pericolosa, avevi ragione tu. Hai capito, avevo ragione io. Ciao, Dinuzzo. Ciao. Chi è quella? La sorella di Porcello. Ciao. Non si è dato l'appuntamento qua? Papà, ma che dici, dai. Bella ragazza. Ti piace?